Tutto bene, abbiamo fatto una buona sgambata, considerata anche l'avversario, abbiamo provato a fare le prime cose che il mister ci ha insegnato in questa settimana e penso che ci sia da essere soddisfatti. Mi è fatto piacere, è stato bello in questa settimana, si sono alternate qua tante persone, poi ieri durante l'amichevole c'era veramente tanta gente, sicuramente ci fa piacere che anche qua in Trentino siamo seguiti, poi avremo modo di arrivare ad Arizzo e fare una settimana là e sicuramente l'accoglienza, mi hanno già raccontato i compagni dell'anno scorso, è stata stupenda, quindi ci aspettiamo tanto entusiasmo. Ma quella di Conte non la auguro a nessuno perché è veramente pesante, però è ovvio che dà i suoi frutti e quindi è importante lavorare sodo, quella di Allegra e quella del mister Astelli si equivalgono a livello di fatica e sicuramente partiamo positivi per la stagione che verrà. Ma è una domanda che mi hanno fatto spesso, però quando ho sentito il direttore soprattutto Capozuca mi ha detto che avrebbe puntato su di me in qualsiasi ruolo, io ho dato la mia disponibilità al mister per fare sia il terzino, sia mezzala, sia l'esterno nel 3-5-2, quindi qualsiasi cosa deciderà lui la metterò in pratica. Mi ha dipinto la città, sicuramente bellissima, quello lo sapevo già, per quanto riguarda la squadra mi ha parlato di un gruppo di ragazzi giovani con molto entusiasmo e devo dire che le prime impressioni sono positive, ma non lo so, magari fra qualche anno, adesso è il momento di fare i fatti sul campo, non di parlare. Ma bene, come ho detto prima abbiamo trovato un gruppo molto giovane, con molto entusiasmo, parlando anche con gli altri ragazzi si vede che è un gruppo che l'anno scorso ha vinto il campionato perché come ho detto c'è molto entusiasmo, c'è molta intensità nelle partitelle e nel lavoro con la palla è questo importante perché poi te lo ritrovi la domenica, quindi da questo punto di vista sono soddisfatto io e sono soddisfatti anche tutti gli altri nuovi, penso a Arthur e a tutti gli altri. Non ci sono differenze perché io quando ero alla Juve ho sempre interpretato il calcio cercando di dare il massimo e come dai il massimo giocando in una squadra che deve vincere lo dai giocando in una squadra che lotterà per salvarsi, quindi da questo punto di vista penso che non ci siano problemi e poi comunque io prima di giocare a Juve ho giocato in Atalanta nel Vicenza quindi non è che ho giocato sempre per vincere i campionati, quella è stata una fortuna che ho avuto per cinque anni però il mio modo di intendere il calcio è quello di soffrire e faticare per raggiungere l'obiettivo. Beh sì, secondo me sì, mister Conte penso che l'abbia dimostrato fino a un mese fa con la Nazionale con un gruppo di ottimi giocatori è riuscito a fare grandissime cose, io non so perché comunque in Italia si dipingeva la Nazionale come una squadra scarsa, questo me lo domando ancora adesso, però devo dire che Conte ha fatto veramente un lavoro straordinario e la dimostrazione è che con il lavoro, la fatica, con l'organizzazione e la programmazione si possono raggiungere grandi traguardi e non vedo perché non si possa fare anche qui al Cagliari penso che la società abbia già posto delle basi importanti l'anno scorso e ogni anno c'è da aggiungere quel mattoncino per migliorare. Grazie a tutti.